questo è il programma diagnostico super vag per il galaxy ora vi faccio vedere una prova di quel poco che ho per ora capito come funziona cliccando sulla diagnosi del cruscotto potete vedere le prove che sta facendo ok 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 E tutto torna come prima. Fatto questo posso controllare i codici di errore e mi dice che non ci sono errori. Però ripeto questa è una piccola parte di quello che sto cercando di studiare. Qui sono tutte le opzioni possibili ma vi dico che è veramente complicato. Poi con calma vediamo cosa esce fuori. Ciao. 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 Ciao.